La seconda ondata ha messo in ginocchio la rete delle piccole e medie imprese romani. Solo un terzo è ad oggi pienamente operativo. Marco Curatolo. Solo un'impresa su tre pienamente operativa. Il 4% ha chiuso e il 12% sta valutando di farlo. E la fotografia piena di ombre sugli effetti della pandemia per le imprese della capitale scattata dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola media impresa, la CNA di Roma. Solo il 34% delle 500 aziende intervistate lavora a pieno regime. Il 53% va avanti ma in misura ridotta. Il 9% ha sospeso l'attività temporaneamente. Il 4% dichiara di avere chiuso in modo definitivo. Grigio l'orizzonte per i prossimi mesi. Oltre la metà degli intervistati vede la situazione in peggioramento. Il 12% sta pensando di chiudere per sempre. E del resto la valutazione dell'andamento economico aziendale non induce all'ottimismo. Il 63% dei titolari delle attività ritiene che il fatturato di quest'anno sarà molto peggiore di quello dell'anno scorso. Scettici gli imprenditori sulle misure di ristoro finora predisposte dal governo. Solo per il 3% di loro quei provvedimenti sono stati fondamentali e per il 24% utili. Ma il 18% dichiara di non avere ricevuto alcun sostegno. Tra le richieste avanzate per la sopravvivenza delle aziende, l'esonero del versamento dei contributi previdenziali fino al termine della crisi e la sospensione dell'IVA, ma anche la concessione di risorse a fondo perduto per gli affitti. La pace fiscale non è più rinviabile, dice il segretario della CNA di Roma, Stefano Dignola.